Si allarga l'attività portata avanti dal Comitato Salute Casentino, dalle proteste per i tagli subiti dalla vallata, o il Comitato si occuperà anche di casi di mala sanità e di eventuali problematiche dei dipendenti e una serie di azioni culminate con la creazione di una struttura di carattere nazionale. Tutte queste segnalazioni relative a casi di mala sanità e anche di servizi ci hanno portato a stipolare una convenzione legale che consiste nel dare una prima assistenza legale gratuita a tutti i casi di mala sanità nella provincia d'Arezzo. Ultimamente queste segnalazioni non sono solamente collegate al presidio ospedaliero di Bibbiena o del San Donato, ma ci sono arrivate anche da alcune case di riposo locali nella provincia. Stiamo per dare assistenza non solo quindi legale ma anche sindacale per problematiche veramente grave come non versamento del TFR, arretramento degli stipendi e quant'altro. In ultimo abbiamo presentato a settembre un'interpellanza parlamentare dalla quale è venuto fuori un'inadempienza da parte della regione nei confronti del governo in riferimento al nostro ospedale, alla nostra vallata del Casentino. Da qui allora ci siamo subito mobilitati per andare a informare e a donare questi atti alle nostre istituzioni, ai nostri sindaci e anche alla ASL. Però tuttavia abbiamo ricevuto un rifiuto, dicono di incontrarsi solo con le istituzioni. Da qui abbiamo riscontrato una curiosa apertura da parte del sindaco di Bibbiena, che è l'ex presidente della conferenza dei sindaci del Casentino. Da lì abbiamo chiesto a lui di supportarci durante questo incontro. Quindi a breve ci incontreremo per portare appunto questi dati e queste segnalazioni. In ultimo, dato che in seguito ha raccolte firme esposte alla Procura della Repubblica, mobilitazioni, continuano a smantellarci un reparto dietro l'altro, a sottrarci servizi fondamentali, ma anche tipo l'assistenza del medico di base e tutto, ci siamo fatti promotori di un coordinamento di carattere nazionale.